cari amici e care amiche in ascolto buongiorno e buona domenica a voi vi invito a ritrovarci alla presenza del signore ascoltando innanzitutto queste parole il signore ci ama il figlio di dio vive viene per salvarci lo spirito santo ce ne dà la certezza perché il nostro cuore si rallegri e il nostro volto sia illuminato nel salmo 138 ascoltiamo queste parole io ti celebrerò con tutto il mio cuore celebrerò il tuo nome per la tua bontà e per la tua fedeltà perché tu hai reso grande la tua parola oltre ogni fama nel giorno che ho gridato a te tu hai risposto mi hai accresciuto la forza dell'anima mia preghiamo signore noi sappiamo che tu ci accogli e questa è una notizia meravigliosa possiamo stare davanti a te anche quando siamo carichi di angoscia e preoccupazioni possiamo alzare il nostro sguardo verso di te anche nelle difficoltà tu ci accogli con misericordia e generosità accogli donne e uomini giovani e vecchi ovunque nel mondo e siamo tutti qui davanti a te ti preghiamo di venire con la tua parola che è parola di speranza che è parola di rinnovamento che è parola di vita signore grazie per ogni tuo dono grazie a te Grazie a tutti. 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 Tutti contro di loro. E per carità non c'è modo di giustificarli ma se poi si legge un po' i giornali in giro eccetera si scopre che queste persone sono politici italiani di italiani che in migliaia hanno preso contributi a sussidi senza averne diritto. Parliamo degli imprenditori che hanno preso la cassa integrazione continuando a fare lavorare i loro dipendenti. Parliamo di quelli che avevano altri redditi eppure hanno voluto comunque questi sussidi. Quindi, insomma, non è mio compito giudicare. E quindi non vado oltre ma certo è molto facile per noi giudicare gli altri cercando se possibile qualcuno su cui gettare tutte le colpe quando probabilmente anche noi non siamo così tanto nel giusto. Allora vi dicevo non è il mio compito giudicare queste cose ma il mio compito è dirvi che in questo racconto la punta non sta nelle cose che fanno o che non fanno queste due persone. Ma sta nel fatto che uno dei due riconosce di essere un peccatore. Cioè di essere una persona che sbaglia davanti a Dio e davanti anche al suo prossimo. Allora io questo vi voglio dire, non pronunciare giudizi, ma dirvi che il peccatore viene ascoltato da Dio e non quello che si crede giusto, questo sì, ve lo voglio dire. E diciamocelo a ciascuno e ciascuna di noi ogni volta che ci sentiamo tanto a posto con noi stessi. Perché vedete, Dio ha un rapporto particolare con chi si riconosce peccatore. Lo ha mostrato in tutta la storia biblica e l'ha dimostrato in modo evidente e lampante con Gesù Cristo. E il rapporto particolare per il peccatore è il perdono. Ma l'uomo che pensa di essere lui sola giustizia di se stesso, molto spesso pronuncia la propria condanna. Allora si tratta di scegliere. Gesù lo spiega ai discepoli e questi ci arrivano. Il racconto finisce così. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello. Pensiamoci. Ogni volta che noi, se siamo credenti o se cerchiamo di essere credenti, anche con mille cadute, ogni volta che noi cerchiamo di innalzarci davanti a Dio e cerchiamo di dire non sono poi così male, ma quanto sono bravo, ma quanto sono più cattivi di me gli altri, lasciamo perdere l'innalzarsi. Ricordiamoci che chiunque si innalza sarà abbassato. Ma chi si abbassa sarà innalzato. Questo vorrei concludere. Chi si abbassa, cioè chi riconosce che da solo non ce la può fare, ma che il Signore è venuto per lui, è morto ed è risorto, viene dal Signore proiettato in una dimensione completamente diversa, che è la dimensione del perdono, del rinnovamento, che è la dimensione della vita eterna, è già perché Gesù, risorgendo, ci ha fatto un dono. Certo, il perdono di Dio, ma al di là del perdono di Dio, Gesù, risorgendo, ci ha dato una grande certezza che, come Lui vive, anche noi vivremo. E non sarà per merito nostro, ma merito esclusivo del perdono, dell'amore che abbiamo ricevuto dal Signore Gesù Cristo. Amen. Gesù, risorgendo, ci ha dato un'amore che abbiamo ricevuto dal Signore Gesù, Gesù, risorgendo, ci ha dato un'amore che abbiamo ricevuto dal Signore Gesù, Gesù, risorgendo, ci ha dato un'amore che abbiamo ricevuto dal Signore Gesù, vi invito a raccoglierci un attimo in preghiera e lo facciamo ascoltando le parole della liturgia della nostra Chiesa di questa domenica, dove è detto Dio nostro, in Cristo ci accetti e ci dai una esistenza piena, ti preghiamo per chi non si accetta, per chi ha coscienza della propria miseria, ma non della Tua pazienza generosa e del Tuo amore. Ti preghiamo per tutti coloro, giovani, adulti, anziani, anziane, che avvertono in modo forte il peso del non-senso della vita e non trovano in Te senso e speranza. Ti preghiamo per noi perché non facciamo un uso distorto della Tua grazia e del Tuo perdono, ma perché ci sia dato di ritrovare sempre in Te il senso primo e ultimo, lieto e forte della nostra esistenza quotidiana. Amen. Ora vi invito a concludere e per concludere vi invito a raccoglierci in una preghiera di intercessione, cioè pregare per gli altri. Signore Padre nostro ti chiediamo di darci la sicurezza che laddove noi non possiamo arrivare tu puoi giungere. Ti preghiamo per tutti quelli che vorremmo aiutare ma non sappiamo come fare, per chi si trova in paese in guerra, per chi è colpito da malattie terribili, per chi è stanco, per chi è costretto a confrontarsi con una vita di miseria, magari perché dopo aver lavorato tanti anni ha perso il posto di lavoro. Ti preghiamo per tutti quelli che cercano di aiutare il loro prossimo, ma avvertono tutta la fragilità del loro aiuto, perché per quanto possiamo fare facciamo sempre poco. Dacci di non disperare mai e di fare il nostro piccolo pezzo sapendo che comunque quello è quanto tu chiedi a noi, non di più, ma anche nulla di meno. Stai con tutti e tutte noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù che ci ha insegnato a dire Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, la tua volontà sia fatta in terra come è fatta nei cieli. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporra la tentazione, ma liberaci dal male perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Buongiorno 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 Salute, onge, c'estante et belle Dans la bouche des hommes Sur un air de fête Sonne les trompettes Ouvre un chambon Et on recitare Et on recitare Et on recitare E concludiamo con questa parola Della seconda Pietro Che è una parola di benedizione Con la quale vi saluto Crescete nella grazia E nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo A Lui sia la gloria Ora e in eterno Amen Arrivederci E buona domenica a tutti e a tutte Mesmo Psicolo Mesmo A Lui sia la gloria Verete Exmo